I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretto e indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL almeno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81% e il 73% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con il CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Il webinar è presentato da me, Giuseppe Cericola, country manager Italia di TICMIL. TICMIL è un broker non di Lindesk, commissione tra le più basse del settore con spread a partire da zero, regolamentazione FCA UK con fondi custoditi e separati dalla società, sicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune, comprese ovviamente strategie di arbitraggio e scalping. Grazie a una velocità ultra rapida con una media di 0,1 secondo, garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo, non avrete mai un record e c'è anche la possibilità di avere degli slippage positivi. Quindi copriamo ovviamente il Forex e il CFD sugli indici, tra cui il Futsimib, materie prime, metalli preziosi e il Bitcoin. Poi ci sono strumenti di trading di ausilio al trader, quindi come la Touch Artist, la WPS in sconto, il one click trading e la demo è limitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi. C'è un programma partner di TICMIL che vi invito a visualizzare sul nostro sito. E poi siamo uno tra i pochi broker a fornire anche l'assistenza sulla dichiarazione del capital gain, grazie a delle partnership con due studi commercialisti che vedete qui l'email e il sito. Questa è la mappa nei nostri server, questa è una tabella comparativa che potete trovare sul sito di MyFXbook, quindi un sito esterno, e noterete quasi sempre che gli spread e le commissioni, quindi c'è anche qui la spunta includi commissioni, sono tra le più basse rispetto agli altri competitor, ve ne accorgete, oltre ovviamente dagli spread bassi, anche dalla casella verde che si illumina quasi sempre su TICMIL. Poi grazie a tutte queste condizioni abbiamo superato i 100 miliardi di volume di trading nel mese di settembre e siamo stati premiati come miglior broker per esecuzione degli ordini, quindi questo uomo che vedete qui con il premio è il nostro CEO Duncan Henderson. Ok, finito la presentazione del webinar, quindi entriamo adesso nel vivo. Allora, cosa andremo a spiegare? Guardate che levo la visualizzazione completa, quindi allora la roadmap del webinar è obiettivo della strategia, dinamica di mercato da intercettare, cosa dice la statistica? Andremo a vedere l'entrata al mercato, quindi l'identificazione dei livelli di ingresso, l'uscita, non l'uscita, scusate, l'uscita al mercato, gestione dei contratti e del rischio. E poi questo sistema, faremo una riflessione finale, questo sistema può essere sostenibile nel tempo solo se. Allora, spero di seguire tutti i punti. Allora, l'obiettivo della strategia è quello che è un po' accennato anche nel precedente webinar, cioè cercare di fare il contrario di quello che fanno le comuni o i comuni sistemi a griglia, cioè sistemi che vanno a prendere di solito dei take molto stretti e lasciano aperte le posizioni e più delle volte cercano di andare a coprire quelle perdite, quindi andando magari anche a martingalare le posizioni per raggiungere il prezzo medio di carico. Questo perché, soprattutto per i sistemi che sto comunque vedendo un po' per la rete, ma anche un po' parlando con i clienti, nascono dalla convinzione che sul Forex il mercato prima o poi va a rivedere quei prezzi e quindi molti cross o cambi sono comunque ideali per questo tipo di strategie. Io questa sera invece voglio mostrarvi un altro studio, un altro tipo di studio che spero possa essere interessante, ovviamente come sempre dicono, non è la soluzione ai problemi, però è uno studio che magari lo vediamo insieme e poi da qui possono nascere poi delle cose sicuramente interessanti. Quindi da dove nasce questo sistema, da una semplice e banale considerazione, ossia se sono stato così bravo a lasciar correre le posizioni in perdita e non mi hanno portato a nulla se non all'aumento dei costi swap, chi mi viete invece di fare il contrario e lasciare aperte quelle in guadagno. Quindi l'obiettivo deve essere non questo, tipico dei sistemi, questo è un sistema che utilizzavo io personalmente, dove si chiudevano le posizioni in guadagno, vedete dalla linea rossa, quindi quelle posizioni che guadagnavano non mi facevano mai chiudere quasi mai una giornata in perdita, come vedete dagli istogrammi verdi di MyFXbook, però la linea gialla ovviamente se ne andava un po' dalla parte opposta perché il sistema che ragionava su questo tipo di conto andava invece poi lasciava correre un po' le perdite, quindi poi cercavano in qualche modo di andarle a recuperare. Quindi l'obiettivo non deve essere questo, ma in realtà questo, c'è un'equity gialla che sta per i profitti, che sta maturando il conto, che però non sono stati ancora chiusi, a discapito ovviamente della linea rossa, che però comunque continua a salire in modo parallelo a quella gialla, ma in modo tale da avere comunque sempre un sistema che adesso vedremo nello specifico. Un altro obiettivo quindi della strategia che voglio comunque riuscire ad ottenere da questo tipo di studio è convogliare in un unico conto training, quindi in un unico sistema di training più tecniche in modo da incastrare i vari studi che ho fatto, perché anche tra voi sicuramente ci sono chi ha assistito ai webinar che ho mostrato sul pattern swing, sullo studio del COT, sulla gestione piramidale, anche sullo studio della volatilità, quindi questo tipo di sistema cerca un po' di inglobarli tutti in modo tale che si possa avere un vantaggio sul lungo termine. Quindi, vediamo però un po' che cosa dice la statistica. Allora, l'obiettivo di questo tipo di sistema è andare a massimizzare i profitti e questo sistema lavorerà solo su euro-dollaro. però la domanda a cui ho cercato comunque di rispondere è capire se per quello che voglio fare io con questo tipo di sistema l'euro-dollaro è adatto a questo tipo di sistema che lascia correre un po' i profitti e quindi cerca anche poi ovviamente la piramidazione con i contratti. Allora, dallo studio del COT, perché il COT sarà un filtro importante, sulla carta ad oggi, quindi dal 2008 ad oggi, abbiamo la possibilità, quindi sulla carta, di guadagnare con questo tipo di sistema. Questo sistema è stato backtestato dal 2008, quindi andando a costruire in situazioni piramidali i contratti quando l'euro-dollaro andava dalla parte dei grossi speculatori e quindi fino a tre contratti compravo. Quindi se i grossi speculatori, ad esempio, compravano con una net exposition long di 50.000 contratti, io compravo. Se la settimana successiva da 50.000 passavano a 75.000, significava che c'era un nuovo ingresso di compratori, quindi andavo ad aprire una nuova posizione. Facendo un po' questo, il sistema comunque si è dimostrato solido, a parte un anno che, se non sbaglio, è quello del 2015 e anche 2013. No, 2015 comunque ha chiuso in positivo, quindi quello del 2013 è stato l'anno comunque peggiore per questo tipo di filtro. Però, oltre a questo, io ho cercato di dare un'altra risposta, perché per costruire con quel sistema è necessario cercare di avere più informazioni dettagliate relativa al tipo di studio, quindi di strategia che voglio andare a costruire. Ho fatto uno studio sulla direzionalità dell'euro-dollaro. Cioè, io sto cercando direzionalità sull'euro-dollaro, ma questo strumento è adatto a far correre le posizioni in guadagno? Secondo voi l'euro-dollaro è adatto a questo tipo di sistema? Sì, bevo un goccio d'acqua. Allora, partendo dal 2008, io che tipo di studio ho fatto? Praticamente sono andato a prendermi le candele weekly, quindi quando vedevo una candela verde rialzista, andavo ad ipotizzare un acquisto sul massimo e vedevo per quanto tempo andavo a mantenere questa tendenza, senza andare a rompere il minimo precedente. Non so se si vede, altrimenti poi ci spostiamo sulla... Vediamo dov'è. Ad esempio, l'entrata buy su questa candela, una qualsiasi candela presa senza una specifica logica. Volevo capire per quanto tempo manteneva questa tendenza senza andare a rompere il minimo. Quindi, ipotizzando di entrare su questa candela qui, su questo massimo, voglio capire per quante settimane l'euro-dollaro manteneva la direzionalità senza andare a rompere il minimo precedente della candela verde. Quindi, qui non l'ha rotto, qui non l'ha rotto, qui non l'ha rotto, qui non l'ha rotto, poi arriva la candela rossa che però non va a rompere il minimo, stessa cosa qui, stessa cosa qui, e mi fa uscire, mi faceva uscire in questo modo, dandomi questo tipo di direzionalità. Quindi, stessa cosa qui, lasciando stare queste qui, che non fanno statistica, perché a me serve capire solo la direzionalità, non se il sistema su quell'anno avesse guadagnato o meno. Io, ipotizzando un'entrata su ogni minimo, ad esempio, ovviamente avrei preso magari gli stop entrando qui short, avrei preso gli stop qui, o qui, o qui. Però, entrando su questa situazione short, vedete che la direzionalità dell'euro-dollaro comunque veniva rispettata, quindi non andava a rompere il massimo successivo. Ad esempio, questa ondata ribassista veniva bloccata qui, questa altra entrata ribassista veniva buttata fuori in questo modo. Quindi da qui, cancello tutti i disegni, quindi da qui ho applicato questo ragionamento tutti gli anni dal 2008 per cercare di capire se l'euro-dollaro mantenesse queste direzionalità. Quindi il 2008, un periodo di grossa volatilità, ha mantenuto la direzionalità, dando quattro tendenze, perché questa è una, questa è un'altra, la seconda, la terza e la quarta, quindi senza andare a rompere il massimo o il minimo precedente. Nel 2009 comunque ha dato anche cinque tendenze per un totale di 2.700 pips, per farla breve, vi prendo lo studio. E vedete che man mano l'euro-dollaro ha perso un po' di direzionalità negli anni, quindi ovviamente abbassandosi anche la volatilità dello strumento, quindi per questo è importante anche conoscere lo strumento, la volatilità intrinseca dello strumento, ha perso un po' ovviamente di direzionalità e nel 2017 attualmente ha dato solo una tendenza rialzista, quindi una tendenza direzionale, anzi, scusate, non rialzista, adesso non so, non mi ricordo se era rialzista, ma credo di sì, infatti era rialzista, partendo da qui, ha dato una tendenza, quindi la logica è che mi devi rompere il minimo precedente. E vedete che in questo caso c'è stata solo una tendenza nel 2017 che ha prodotto 435 pips. Allora, questi sono solo studi statistici, quindi mi serviva capire se comunque l'euro-dollaro potesse essere uno strumento corretto per questo sistema e anche se la direzionalità è venuta un po' meno sui grafici weekly, ho comunque deciso di andare a lavorare sull'euro-dollaro perché è quello strumento che costa di meno, quindi perché ha gli spread e le commissioni più basse e quindi i costi sono importanti, vi ho fatto vedere anche nel precedente webinar. Un altro studio che poi sto facendo perché questi servono anche per capire perché la domanda che soprattutto mi farete e per cui mi sono già preparato è far correre i guadagni ma fino a quando? Perché prima o poi devi comunque uscire. Quindi questi studi servono anche per capire un po' quanta direzionalità fa un sistema e che impatto hanno le notizie macro su euro-dollaro perché su euro-dollaro sostanzialmente ci sono tre grosse notizie da grosso impatto che sono i non-farm payrolls, la BCE e il FONC. Quindi io ho iniziato adesso a fare lo studio sulla BCE per capire un po' se le tendenze realmente partono dopo le conferenze stamp. Ho fatto due anni dal 2017 e in effetti quando chiude a ribasso la giornata della BCE effettivamente l'euro-dollaro poi mantiene una certa direzionalità in corrispondenza della candela ribassista per un tot di giorni. Ad esempio se prendo quella del 26 luglio c'è stata una candela ribassista sulla conferenza di Draghi che ha questa candela non è stata molto volatile perché è stata di 105 pips rispetto agli 84 dell'ATR quindi significa della media della volatilità dei 100 periodi sul daily dell'euro-dollaro quindi diciamo che è stato il 123% volatile rispetto a quella dell'ATR quindi ha chiuso in ribasso quindi ho ipotizzato se io avessi semplicemente acquistato sul minimo alla rottura del minimo quindi il giorno successivo fossi entrato sulla rottura di quel minimo quanti giorni mi durava quella tendenza ribassista e quanti pip mi dava come io l'ho chiamata potenza massima di quel ribasso ad esempio su quella del 26 luglio è andata a ribasso per 14 giorni per poi rimangiarsi quindi tutto nei 5 giorni successivi quindi andare a rivedere quel prezzo medio di carico con cui ero entrato sull'entrata minima quindi per un totale di 19 giorni in questo lasso di tempo il massimo dei pip che ha dato comunque l'euro-dollaro è stato di 310 pip il massimo proprio che c'è stato è quello del 26 aprile vediamo se lo trovo qui perché ho chiuso la piattaforma comunque 26 aprile da sempre candela ribassista quindi poi è andata una grossa direzionalità che è durata per oltre 570 pip quindi la queste conferenze queste quindi queste notizie a grosso impatto serviranno anche per capire per capire un po' che tipo di direzionalità c'è da aspettarsi dopo una conferenza stampa quindi se io ad esempio voglio far correre dei profitti e sono riuscito ad entrare short magari anche prima della conferenza stampa so che posso aspettarmi un determinato range di prezzi e quindi magari prima della successiva conferenza stampa o della successiva della successiva news vado a chiudere quelle posizioni quindi vado a prendere profitto ad esempio se sono entrato short sul giorno dopo della BCE e mi aspetto e riesco a tenere quelle posizioni fino a non far payroll il giorno di non far payroll vado a togliere le posizioni in guadagno quindi questa è un po' la logica che deve esserci di fondo ok allora se avete domande nel frattempo così bevo un goccio d'acqua allora andiamo un po' ok allora adesso passiamo un po' all'entrata del sistema allora allora l'entrata si basa sugli swing di prezzo che cosa sono gli swing di prezzo uno swing che da ora in poi chiameremo livello di ritracciamento per non confondere con la tecnica di trading è composta da una serie di barre rialziste o ribassiste seguite da una serie di barre contrarie alla tendenza ad esempio qui vediamo che ci sono mettiamo la penna questa serie di candele rialziste verdi poi arrivano due barre rosse contrarie quindi per me questo è uno swing rialzista ok quindi io andrò a entrare in questa situazione quindi sul massimo di questo swing rialzista allora siccome adesso io con questo progetto sono già partito ve lo spiego direttamente sulla piattaforma senza che ne dite senza le slide così siamo molto più concreti allora cancella tutto e anche perché sono un po' imbranato con i vari pulsanti di go to webinar allora mi sposto sulla piattaforma devo solo seguire le varie i vari step allora adesso questo è il sistema su questo sistema che cosa ho una bike che mi è entrata ieri su uno swing quindi abbiamo definito lo swing con una serie di candele verdi adesso andiamo a vedere l'entrata questa bike delle 19.05 io sono entrato ieri su questa situazione vedete questa candela verde adesso dove sono allora io l'entrata non deve essere non deve essere perfetta perché non è l'obiettivo questo del del sistema perché non mi interessa avere il setup perfetto perché tanto comunque statisticamente anche se vado a cercarmi l'entrata perfetta comunque ci saranno alcune volte dove riesco a beccarla altre volte dove magari perdo un trade perdo dei pip inutili quindi per me basta che per entrare long la logica è vedo una candela verde ok mi chiude con la candela verde la successiva mi fa una candela rossa quindi contrario a quella verde ok io piazzo un buy sul massimo di questa candela verde quindi qui quindi questa è la candela quindi questo per me è un livello di ritracciamento long quindi io andrò a piazzare un buy qui sopra ok quindi un buy stop ovviamente qui si ragiona con barre chiuse quindi devono essere già chiuse non a barre aperte quindi io questa situazione la vedo qui sostanzialmente l'ordine mentre qui infatti questo delle 19.5 è entrato qui qual era l'errore che facevo prima è che entravo qui mi andavo a stoppare qui sotto o alcune volte mi andavo a stoppare sotto il minimo no è un errore che ho pagato a caro prezzo e ho deciso di andare a stopparmi basandomi sulla volatilità quindi io entro qui in buy lo stop loss io lo vado a piazzare sotto al minimo più la volatilità estrema di euro-dollaro da dove la becco la volatilità estrema di euro-dollaro da Mataf dove non ho aperto Mataf credibile allora aspettate che ve la faccio vedere intanto rispondo a un po' di domande gli swing io utilizzo l'M30 e Antonio questo non va sul gold quindi non ti so dare nessuna opinione perché anche perché non ne ho opinioni sul mercato perché potrebbe valere quello che vale perché non ho nessuna idea previsionale su uno strumento allora la volatilità in pips è estrema me la vado a prendere sempre da Mataf e quindi mi serve capire un po' l'euro-dollaro quando si muove in modo estremo voglio sapere che tipo di range ha attualmente sulle 50 settimane allora l'euro-dollaro ha una volatilità diciamo estrema di 24.2 pips che raggiunge verso gli orari quelli più comuni di liquidità quindi che cosa faccio vado a applicare quindi qui c'è stata l'entrata lo stop sarà questo il minimo più i 25 pips perché rappresenta quindi sostanzialmente sarebbe qui più o meno 25 più sotto perché in questo modo riesco a a evitare queste situazioni io prima cosa facevo su queste giornate di ieri prima della delle lezioni del midterm di gli Stati Uniti che cosa facevo entravo magari vai qui mi stoppavo qui sotto il minimo poi magari entravo sell qui e mi andavo a stoppare qui sopra e su giornate poco laterali poco volatili come quelle di ieri che magari aspettano anche una notizia importante non ha senso andarsi a stoppare sotto i minimi massimi perché te le viene a prendere e poi va di nuovo in quella direzione invece in questo modo si riesce comunque a lavorare sulla volatilità e comunque non è che io devo aspettare che mi vada a prendere lo stop perché poi entrerò su altri swing quindi se mi arrivano gli swing short entrerò ovviamente sugli swing short ora per farvela breve su una situazione reale quindi io come sono arrivato ad oggi ho questa situazione buy dove sono entrato su questo swing e oggi sono con sostanzialmente tre sell perché mi sono entrate tre swing sell ok quindi mi è entrato uno swing qui vedete su questo allora mi è entrato prima qui partendo dalle nove partendo dalle nove vedete che io il primo swing short io poi l'ho scritto in chat che oggi mi aspettavo ho dato il filtro short che poi vedremo da dove lo prendo questo filtro short quindi la prima entrata doveva essere short quindi io la prima entrata l'ho fatta qui che me l'ha chiusa brecchiman e poi spiego il brecchiman quando si mette ma adesso ve lo faccio vedere perché ci sto per arrivare un'altra entrata quindi la prima entrata short qui l'altra entrata l'ho fatta qui che questa è già brecchiman sempre short e l'altra entrata su questo perché vedete allora la logica è mi fai candela per entrare short vede una candela rossa ok la successiva è ancora rossa ok non faccio nulla arriva la verde chiude la verde metto la self stop sotto questa questo livello di ritracciamento short quindi in questo caso vedete qui candela rossa di bassista arriva la verde chiude io qui ho piazzato una sell questa sell adesso siccome mi è entrata un'altra sell qui sotto perché si è creato un nuovo swing quindi candela rossa verde verde non entro qui ma entro sempre sul minimo della candela rossa quindi in questo caso qui sotto questa qui la vado a proteggere a brecchiman perché non voglio aumentare troppo l'esposizione quindi in questo caso è a brecchiman allora se adesso dovesse arrivare su questo livello qui che è un livello ipotetico dove potrebbe andare a ragionare un po' l'euro dollaro quindi un supporto io che cosa faccio parte di queste se dovesse arrivare riuscire ad arrivare con questi tre sell andrei a chiudere una parte di questo posso decidere in maniera del tutto discrezionale di magari chiudere due operazioni di queste e l'altra lasciarla aperta male che va avrei comunque una situazione di edging sia in buy che in sell ma a contrario dell'edging comune dove il più delle volte si va a chiudere una perdita quindi a bloccare una perdita in questo caso noi siamo comunque in guadagno perché ci troveremo sia la sell in guadagno che la buy quindi male che va una delle due verrà chiusa in brecchima e nell'altra magari continua a guadagnare oppure se sfiga vuole che ne so io adesso arriviamo qui chiudo questa e questa perché arriviamo qui io chiudo queste due sell per prendere profitto e ho questa sell e quest'altra magari il prezzo continua a scendere mi va a chiudere la buy e quindi io comunque questa sell che sta guadagnando però magari domani mattina questa mi risale e mi va a richiudere di nuovo la sell che avevo quindi può succedere un po' questo tipo di possono succedere un po' queste queste cose ovviamente se si muove in laterale però l'obiettivo è praticamente avere delle posizioni riuscire comunque ad accumulare queste posizioni e dimenticarsene perché sostanzialmente questa buy qui che adesso sta guadagnando io non l'ho conteggiata nella nei contratti perché adesso devo spiegare per quanti contratti si entra però bevo prima un goccio d'acqua e rispondo alla domanda di domenico potresti mettere ATR con un periodo ad esempio di vendi candele maggiorato di un terzo ah tu dici come stop sì però comunque vediamo quant'è un ATR a 20 periodi sì 21 candele sì potrebbe anche essere un'opzione esatto potrebbe comunque essere un'opzione io senza troppi ragionamenti vado a prendermi quelli di Mataf perché comunque mi va a vedere un buono storico però sì sostanzialmente si può anche e questo è il bello comunque del sistema io comunque dare degli input però poi poi un po' anche dalla bravura dalla discrezionalità dei vari trader che vanno ad applicare questo questo sistema che può sembrare un po' diciamo complesso però vi assicuro che non lo è e la cosa che sto notando è che il prezzo segue bene con gli swing quindi entrando in questo modo si riesce a seguire bene la tendenza di mercato quindi la tendenza dell'euro-dollaro vediamo se mi se mi sono dimenticato qualche punto quindi l'entrata l'entry viene fuori un po' questa cosa io adesso qui ho preso un esempio laterale lo vedete io sono entrato qua e qui entro qua e qui quindi poi il sistema mi fa entrare sell qui poi mi fa entrare il nuovo sell qui però questa sell viene chiusa a brecchimer quindi si segue un po' il prezzo per poi rifare di nuovo tutto di nuovo le entrate quindi buy 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 ovviamente fino a un massimo io sto utilizzando tre contratti cioè io in un unico giorno non voglio aprire più di tre sell e più di tre buy quindi se ad esempio sono con tre sell e queste sono già a brecchimer se mi arriva un'altra sell come in questo caso io non la apro perché sono già con tre sell se poi una di queste tre mi viene chiusa a brecchimer ok quindi si libera spazio e posso comunque rientrare nuovo sulle sell ma sempre dandomi un limite di tre contratti non vado a a contare nel conteggio dei contratti quelle che sono chiuse da parecchio tempo perché sono state aperte da diverso tempo come dicevo questa buy che ho aperto ieri questa qui non mi rientra nel conteggio di oggi quindi oggi potevo aprire tre sell e tre buy se avessi conteggiato anche questa buy potevo aprire soltanto due buy però siccome la logica è quella dimenticati delle posizioni che hai aperto questa non viene conteggiata quindi si lascia in si utilizza in questo modo io nel frattempo leggo anche le vostre domande questi sono un po' di commenti che avevo fatto ah ok una quindi la cosa secondo me il valore aggiunto è cercare sempre di darsi dei livelli quindi è vero far correre le posizioni però sapete meglio di me per chi è trader lasciar correre le posizioni e non poterle non poter prendere i gain psicologicamente magari non è la miglior soluzione perché comunque tendiamo sempre a cercare di chiudere la giornata in positivo e quindi bisogna cercare diciamo un compromesso il compromesso può essere che siccome si entra con tre contratti non c'è alcun motivo per cui una parte di questi tre contratti non si possano chiudere in guadagno l'importante è cercare dei target il target può si può come si può fare come si può identificare un target il più oggettivo possibile io utilizzo queste linee che vedete orizzontali che sono gli indicatori di supporti e resistenze di barri lo trovate su internet poi se qualcuno lo vuole basta che lo chieda in chat lo mando quindi che cosa si può fare ad esempio ci si può mettere sull'H1 se si lavora sull'M30 e dire ok le mie sell dove possono arrivare cioè dove voglio prendermi profitto e il primo supporto che vedo è questa zona qui quindi se arrivo qui in questa zona se sono arrivato con tre sell non ha alcun senso che magari me le porto tutte e tre in overnight due me le chiudo una me la chiudo poi potete gestirlo comunque in maniera discrezionale l'importante è che così il vostro ego da trader venga un po' come dire saziato e quindi andare anche a chiudere in profitto delle posizioni quindi in questo modo si reputo comunque importante identificare dei livelli quindi ad esempio sulla chat per chi sta riuscito comunque a seguire senza la spiegazione del sistema ogni mattina sto dando degli ipotetici livelli che secondo me si possono che l'euro dollaro può raggiungere quindi faccio semplicemente questo questo studio mi vado a vedere i primi supporti che però abbiano una distanza decente dal prezzo cioè ricordatevi sempre quel 25 pips di euro dollaro che corrisponde alla la volatilità più estrema che ha l'euro dollaro mediamente su un'ora quindi non so se entrate sell qui sono 37 pips da questa sell quindi l'euro dollaro magari non ci arriva stasera la farà domani però se siete entrati qui comunque siano già sotto i 25 pips quindi se entrate qui ad esempio short va da sé che andarsi a prendere questo supporto non ha molto senso ci si sposta su quello successivo che è questo quindi dipende anche un po' dipende un po' sempre dalla 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 entrata cioè dalle entrate da quanto siamo vicini rispetto a i take quindi queste situazioni qui adesso sono quindi io mi trovo una buy due sell in brecchimen e questa sell che ancora non ho messo a brecchimen che cosa faccio con questa sell che è aperta non è che aspetto che mi vada a prendere lo stop perché questo stop qui io dovrei metterlo su questa linea quindi il massimo è 1,15 più 25 pips oppure utilizzo il consiglio di domenico di ricavarmelo sul grafico ATR sull'ATR a 20 periodi maggiorato in un terzo però lasciamolo con 25 pips io quindi dovrei chiudere a 1,15 e 25 ma non sto lì ad aspettare che mi vada a prendere lo stop senza fare nulla sfrutto appunto gli swing quindi il prossimo swing rialzista io da dove lo vedo semplice devo prendere le ultime candele verdi quindi questa è verde verde rossa ok chiusa quindi io piazzo una buy stop qui sopra quindi sposto questa buy stop che avevo sull'ultimo sul penultimo swing diventa l'ultimo livello ritracciamento long quindi entrerà buy qui sopra ovviamente se poi si crea un altro swing long prima di arrivare al target io poi mi vado a coprire sempre usando questa logica quindi utilizzo un po' questo tipo di ragionamento allora i filtri allora io utilizzo i filtri sono il cot report l'analisi retail e massimo tre contratti per lato quindi i contratti già l'ho spiegato quindi escluse le posizioni che sono aperte da magari dal giorno prima o comunque in giorni precedenti io nella giornata devo aprire massimo tre operazioni long e massimo tre operazioni short non coperte quindi quelle se sono andate in brekkiemen tre long e poi una di queste tre mi viene chiusa in brekkiemen si libera spazio però sempre massimo tre non so se mi sono spiegato il cot report come lo utilizzo io ogni mattina vado a darmi una tendenza c'è la tendenza macro che ricavo dal cot quindi i grossi speculatori allora sull'euro dollaro non sono stato l'unico a fare gli studi sul cot ci sono diversi studi attorevoli di trader sistematici in Italia che hanno fatto questo studio per vedere se il cot funziona ed effettivamente sull'euro dollaro funziona quindi fare quello che fanno i grossi speculatori sul lungo periodo dà un vantaggio quindi è meglio trovarsi sempre a favore della tendenza che non quindi vedetelo poi anche da su bar chart vedete vedete la linea verde questa linea verde rappresenta quello che fanno i grossi speculatori e hanno un'abilità particolare a prendere diciamo a farsi trovare quasi sempre dalla parte giusta quindi ad esempio sono entrati qui vedete questa linea verde short e il prezzo è sceso poi è durata tutta questa tendenza fino a qui quindi questo è il reale pericolo del cot per questo quindi nasce questo sistema perché non bisogna avere gli occhi vendati e seguire come permettetemi il termine come delle scimmie la tendenza perché ovviamente qui va bene qui che guadagnate però qui poi il problema è in laterale quindi la tendenza si è protratta fino al 2017 quindi vedete quanto tempo sono stati short i grossi speculatori sull'eurodollaro quindi dal 2014 che era mi ricordo molto bene dopo i non far pay roll dove l'eurodollaro ha raggiunto quasi l'1,40 dal giorno dopo dei non far pay roll ci fu un declino appunto di eurodollaro che è durato poi fino al 2017 con le elezioni francesi quindi con Macron e è iniziata questa tendenza rialzista adesso i grossi speculatori sono short però non sono molto esposti però tanto mi impasta per darmi una una un filtro quindi il filtro diventa short e a questo l'abbino all'analisi retail quindi ogni mattina mi vado a prendere i dati dei retail e li vado a mettere su questa tabella allora io adesso per non fare pubblicità le leggete voi le quali sono le fonti quindi ve le segnate le trovate su su internet quindi vanno a mettere queste 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 posizioni dei queste posizioni del sui dei retail sui vari broker io ne vado a vedere quattro una è MyFXbook l'altra le vedete qui e quindi da qui mi vado a ricavare sempre un filtro quindi se i retail sono long devo andare short e ne ricavo quindi quella tabella e mi da short long e la precedenza di entrata è short che cosa significa significa che io se ho short la tendenza cot e long la tendenza retail quindi fare il contrario di retail devo entrare short ma short soltanto la prima entrata quindi io devo darmi una precedenza come ho fatto questa mattina io non mi sono andato a prendere questi long giusto o sbagliato che sia io mi sono detto stamattina il primo la prima entrata sarà short quindi la prima entrata l'ho fatta qui con lo swing perché mi diceva di entrare short poi se questa entrata fosse andata male io avevo subito attivavo la copertura in buy quindi sono sempre coperto questa questa buy che vedete qui lascia proprio dal fatto che io ho preso comunque gli stop delle short però è rimasta aperta la copertura della buy e questa buy viene messa in brecchino perché il cot funziona però ovviamente è sul lungo periodo quindi io non so se funziona oggi funziona domani o se smetterà di funzionare quindi con questo sistema io cerco di trovare una gabbia di ingambiare con quel prezzo cercando di ovviamente il segreto secondo me per renderlo sostenibile appunto utilizzare sempre questo meccanismo di coperture e quindi di dimenticarsi delle posizioni che sono in guadagno perché il bello quale sarà che noi magari andiamo in overnight abbiamo una buy a brecchino e poi ce la troviamo magari il giorno dopo 50 più sotto sopra al prezzo quindi stiamo guadagnando e da lì possiamo iniziare ad attivare le coperture però invece di andare a lavorare su delle perdite andiamo a bloccare un guadagno e quindi questa cosa può essere sul lungo periodo utile ok allora secondo me gli ingressi potrebbero essere presi al miglior prezzo con il pattern key si puoi utilizzare qualsiasi tipo di pattern domenico non è quello io la voglio ho cercato di renderlo il più semplice possibile con gli swing non sto lì troppo a ragionare quindi l'ultimo swing per me quello deve essere l'entrata va più che bene poi ovviamente nessuno vieta di usare un altro tipo di entrata l'importante il cuore di tutto è questo tipo di gestione dei vari contratti poi c'è sì lo swap sicuramente sì lo swap però su euro dollaro attualmente con TIC 1000 è tra i più bassi quindi siamo stati sempre competitivi sullo swap quindi sono aumentati recentemente però adesso andiamo a vederlo lo swap perché lo swap lo vedete da qui lo swap lo swap in short sono cinque punti che quindi mezzo pip sulle short che guadagnate 0,7 quindi sono 0,7 sulle long che perdete però vedete che comunque sono abbastanza è tra i più bassi rispetto con quegli altri quindi diciamo che c'è un buon c'è un buon rapporto quindi per questo io scelgo l'euro dollaro perché è quello che ha i costi minori in tutto perché è liquido e quindi si riescono ad avere delle buone delle buone delle buone condizioni e con TIC 1000 comunque non si sbaglia perché comunque anche l'esecuzione gli stop che vengono comunque sempre rispettati quindi si può lavorare bene sull'euro dollaro e non è necessario ad andare a cercare altri 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 cambi o cross per questo tipo di strategia ovviamente poi vediamo che cosa mi sono dimenticato quindi i vari passaggi si parte dall'analisi del COT allora la gestione del rischio quindi lo stop loss l'abbiamo visto basato sulla volatilità massima registrata in ILO quindi quella che abbiamo visto su Mataf sul massimo o sul minimo lo stop loss attualmente lo sto basando in questo modo però secondo me si può fare anche basandosi sui big round number che sono che sicuramente avrete notato come euro dollaro li rispetti in maniera incredibile l'1 e 15 se io entro short qui posso andarmi anche a stopparmi sopra i round number quindi tenermi in considerazione anche può magari essere un'alternativa però io attualmente preferisco farla con la volatilità ovviamente si accettano consigli la mia speranza è che poi veniate in chat anche per rispondere a Pietro che mi chiede se si può avere comunque si ti posso dare le slide però secondo me è vederla giorno dopo giorno perché io stesso sono il primo che sto provando con questo progetto quindi assolutamente ti invito a venire in chat su Working Forex perché ogni giorno poi andiamo a discuterne quindi la copertura spero che sia chiara cioè se io entro short non devo aspettare che mi vada a prendere lo stop loss ma devo entrare sul successivo swing long quindi andarmi a coprire in questo modo quindi con l'aging in questo modo si riesce con questo tipo di aging si riesce a a bloccare i guadagni ma non è un aging diciamo quello che viene fatto comunemente dove magari si lo si fa anche per avere un un controllo psicologico sulle perdite perché magari con l'aging riesco a gestire meglio io non sono molto d'accordo su quel tipo di gestione l'ho provata appunto sull'equity che vi ho fatto vedere questa qui questa qui è figlia di un aging sbagliato nel senso che comunque con l'aging si ha la presunzione passatemi il termine di controllare le posizioni di cercare di recuperare dei loss lì una volta che comunque è chiuso in loss è finita cioè comunque se chiudi una long che perde con una short ha poco senso allora quindi la strategia mi chiede Alfred se usi sempre gli stessi lot di entrata allora questo tipo di sistema nasce dal webinar precedente dove abbiamo parlato dei trader sottocapitalizzati cioè un trader sottocapitalizzato con 500 1000 euro che cosa può fare con il trading oltre a lasciar perdere che magari è la soluzione migliore perché purtroppo comunque con quegli importi si può fare ben poco oltre ovviamente a lasciar perdere se non si hanno se non si hanno magari obiettivi a breve termine quindi si vive la favola di diventare ricchi in qualche mese ma magari si vuole studiare quindi apprendere nuovi sistemi crescere in questo caso anche con questi importi si può fare qualcosa e io cercherò di dimostrarlo empiricamente quindi con questo conto che ho aperto da 1000 dove ogni mese andrò a costruirmi un pack quindi andrò a fare un piano di accumulo ho fatto vedere una proiezione quindi ogni mese andrò ad inserire degli importi su questo tipo di conto dei depositi in modo tale da farlo crescere e secondo me questa è una delle poche soluzioni che ha un trader sottocapitalizzato per crescere nel tempo perché senza questo tipo di approccio secondo me non si va da nessuna parte poi se uno vuole provare la fortuna magari perché non so vuole provare l'azzardo può farlo ma la matematica contro le percentuali sono impietose avete visto comunque l'inizio che l'81% perde e quindi io sto provando anche a dare un po' di una una formazione quanto meno seria e sostenibile perché secondo me questo tipo di approccio per chi è sottocapitalizzato può essere sostenibile nel tempo e quindi rispondo alla domanda di Alfred mi chiede qua le size se sono sempre uguali no le size dipendono appunto dal capitale quindi partendo dal capitale di 1000 euro la size singola per contratto sono dei microlotti da appunto un microlotto che valgono 10 centesimi su euro o dollaro quindi si ha un margine di 10.000 pips perché se fate se andate a prendere questa size singola e riporto al capitale avete un margine per lavorare di 10.000 pips questo margine deve rimanere costante quindi se aumenti il capitale non è che la size rimane a 001 perché altrimenti non ve ne venite più quindi dovete comunque cercare anche di aumentare la size quindi quando arriva a 2000 la size diventerà 020 quindi ogni contratto entrerà da due microlotti ad esempio se seguirete poi questo progetto vedrete che a novembre io qui andrò a aggiungere altri 500 quindi arriverà a 2000 e a 2000 se non perdo ovviamente se non scende il capitale a 2000 potrò utilizzare due microlotti per contratto quindi man mano che sale quindi una proiezione a un anno tra un anno io mi devo trovare con questo capitale quindi sempre avrò sette microlotti per sites però avrò sempre un margine costante questo secondo me è una gestione del rischio molto intelligente perché cosa succede se il capitale dovesse scendere quindi a 6000 io abbasso ovviamente la sites quindi man mano che sale aumento anche la sites però il margine rimane sempre costante quindi non non vado a a espormi troppo con il conto quindi è già tutto stato programmato a priori quindi iniziate con un capitale da 1000 la sites è questa 01 man mano che sale o con le performance ma sarà molto difficile perché abbiamo fatto una proiezione per chi ha assistito al precedente webinar di un 10% all'anno che è già tantissimo con un 10% all'anno si possono avere questi risultati ma solo se si applica un piano di accumulo altrimenti vale un po' quello che vale allora vediamo se poi mi sono dimenticato qualcos'altro appunto puoi tenere conto delle correlazioni per non aumentare il rischio l'ho spiegato già l'altra volta è inutile che entrate applicate questo tipo di studio sull'euro dollaro e poi fate la stessa cosa sulla sterlina no perché è come se entraste il doppio quindi andate a aumentare il rischio quindi non strumenti correlati bisogna lavorare solo su euro dollaro se si applica con questo se si applica questo studio e quindi poi è importante massimizzare i profitti quindi la chiave di volta rispondo anche alla domanda su dove si mettono i take profit l'ho spiegato però la chiave di volta è che riuscire a far correre queste posizioni fino a quando fino alla successiva news importante quindi a un grosso impatto se magari o la sell o la buy mi arriva al prossimo evento macro in forte guadagno io magari posso chiudere in profitto oppure per non rischiarmi di beccarmi la grossa volatilità oppure si può chiudere il cot report adesso sono short i grossi speculatori io ho delle sell quindi sto cavalcando bene il trend quindi magari che ne so sono fortunato viviamo un un 2014 dove è il 2014 non c'è nessun alcun motivo per uscire da questa situazione se i grossi speculatori sono short quindi mantenere queste posizioni può sembrare utopia ma secondo me questo è il valore aggiunto che si deve cercare di raggiungere mantenere le posizioni fino a quando appunto fino a quando resistono i grossi speculatori può essere una una soluzione quindi studiatemi anche il cot perché ad esempio sul cot ci sono molte cose interessanti da notare andando a guardare i commercial oppure come diceva Domenico di andarsi a guardare le put le opzioni però sono argomenti sono argomenti un po' complessi che spiegarli in un'ora viene difficile però studiandovi le opzioni studiandovi un po' il comportamento dei commercial vedrete che comunque qualche soluzione si può trovare di uscita perché i commercial di solito su euro-dollaro non arrivano oltre i 200.000 contratti quindi quando vedete che siamo arrivati sui 200.000 contratti dei commercial allarmatevi e cercate comunque se dovete prendere profitto lo prendete profitto quindi storicamente non si arriva oltre quei contratti poi come appunto diceva Domenico potete utilizzare anche le opzioni per capire se ci sono delle grosse opzioni che non so un livello di supporto è stato molto venduto quel supporto quindi c'è una grossa vendita adesso non mi ricordo bene le tecniche sulle opzioni non vorrei dire gastronerie sicuramente in chat c'è qualcuno molto più preparato di me le utilizzavo anch'io con le opzioni Vanilla l'avevo detto anche l'altra volta ma ahimè le ho utilizzate in modo in modo errato perché andavo a venderle quindi mi beccavo tutto l'eventuale ritracciamento quindi per incassare il premio quindi fate attenzione su quello vi serve però solo come strumento per andarsi a vedere un po' i supporti e le resistenze non so Domenico se vuoi segnalare il sito dove si vedono le opzioni se non ricordo era option etic qualcosa del genere poteva essere option etic si poi vedete vi date un'occhiata a questo sito iniziatemi un po' a informare anche sulle opzioni sull'euro-dollaro e potete comunque fare un po' di esperimenti la media non è importante Piero io utilizzo così mi piace vederla questa da da 100 questa media esponenziale da 100 poi una cosa non so se c'è Salvatore in linea però comunque su questo tipo di sistema si sta lavorando anche per fare un expert semi-automatico in modo tale da poter da poter delegare un po' le entrate all'expert anche la gestione per evitare di stare lì davanti al pc su grafici comunque come l'M30 non c'è grosso lavoro da fare perché comunque per chi come me sta tutto il giorno al computer a lavorare dare un'occhiata se avete poi dei multi monitor mi viene anche facile ok allora spero di non essermi dimenticato nulla vi invito comunque a venire sulla chat telegram perché è lì che poi vedremo un po' il tutto la seguiremo giornalmente e la registrazione si ci sarà quindi poi riassumiamo un po' tutti i diciamo i punti quindi applicare la giusta size in base al capitale quindi abbiamo visto in base al capitale quindi se avete partito con mille dovete avere un margine 10.000 pips quindi partire con un micro lotto per contratto quindi poi applicare un filtro di tendenza dallo studio del cot e del retail abbiamo visto quindi il filtro per decidere la direzione iniziale entrare basandosi sui ritracciamenti ma senza aspettare il pattern perfetto quindi gli swing che possono essere anche magari non perfetti però poi se avete qualche altro tipo pattern a cui siete affezionati potete entrare con quello non c'è problema io lo faccio perché con questi con questi ingressi ho dei sono poco costosi quindi non non sono non vado a prendere stop troppo larghi poi l'orario anche questo mi sono dimenticato dove cerco gli swing sono dalle 8 di mattina fino alle 20 quindi posso entrare non non ha senso entrare in overnight perché in overnight purtroppo si abbassa la volatilità e quindi diventa tutto molto erratico entrare quindi con massimo tre contatti per lato in modo da non lavorare troppe situazioni di lateralità quindi escuse quelle in guadagno perché quelle vanno dimenticate gestire solo momentaneamente in aging le posizioni fino allo stop loss di uno o più quindi non affezionarsi all'aging non lasciare assolutamente correre le perdite quelle vanno tagliate perché se già avete calcolato lo stop sul minimo più la volatilità gli avete dato già troppo spazio quindi se vanno in stop amen poi spostare in brecchimento e questo è il valore aggiunto anche delle posizioni in guadagno in modo da non esporsi troppo in un'unica direzione in caso di ritracciamenti violenti o cosiddetti ritracciamenti a V e poi gestire i guadagni intake e in piramidazione quindi in questo modo avrete quasi sempre lo vedrete voi stessi quindi sarà anche una sfida con voi stessi sulla sull'equity avrete sull'equity avrete quest'equity gialla che va a superare l'equity rossa quindi significa che avrete molte posizioni in guadagno e quella rossa deve seguirlo un po' in parallelo cioè quindi crescere un po' ma non in maniera così esponenziale come in questo caso perché prima o poi poi chiamatelo come volete un po' cigno nero però prima o poi arriva quella la chiusura delle posizioni in perdita che vi fa chiudere un po' tutto ok ho finito con il webinar quindi abbiamo abbiamo un po' spiegato tutto grazie a te domenico ok quindi puoi postarlo poi domani su telegram vi do appuntamento al prossimo mercoledì dove spiegheremo il termometro forex nella ultima versione grazie a tutti e vi auguro una buona serata grazie a tutti